Lo scopo della vita per ognuno è diverso, ognuno fa quello che può, lo scopo di questa vita per ognuno è uguale, rinunciare a tutto quello che fa male ed aprirsi un cuore. Lo scopo di questa esistenza non lo conosco mai, ogni giorno cambia un po' come se un vento forte che procuro in ogni istante lo ritroverò ovunque io andrò e soprattutto quando corro più veloce. Mi ricordo una canzone tanto tempo fa, parlava di te, parlava di un gruppo e fa nascere la separazione tra le cose, che fa prendere le decisioni quando facciamo l'unità tra noi, tra noi, tra noi, tra noi. Lo scopo per giovedì è quello di rimanere, lo scopo personale è quello di non cadere, l'inaugurazione di questo giornale che mi porterò qui ogni ogni volta con te, ogni volta perché, non ho altre fragilità. Oh 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 Ah, 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 ah! Andremo via, andremo qua, fino a scoprire questa realtà Andremo su, andremo giù, fino a ringraziare ogni persona che E' la vita che ci chiama tutti i giorni con gli ostacoli e miracoli che abbia creato noi E' la vita che ci chiama tutti i giorni con gli ostacoli e miracoli che abbia creato noi E' la vita che ci chiama tutti i giorni con gli ostacoli e miracoli che abbia creato noi